I miei agenti e io ti siamo grati per l'evoluzione. E trovate quella donna in questa zona! In questa zona! L'ultima battaglia! Non mi piace perdere tempo. No! No! Ma questa era una battaglia! No! 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 Questo è tutto! Io non erpino a vedere! E non è una lena! Dai, provate! La tengo sostanza di affrontarmi! Sì! No! 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 Potete andare! E riferirà un'inizione, così si passerà. Abbiamo finito. La tua ultima battaglia! Pensavo fossi meglio. Oddio! Scusi! No! 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 Oddio! Grazie, potete andare. No! 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 Uno scontro all'ultimo sangue? Vatti sotto, tesoro! Vediamo chi ne esce vivo! Chi è con me? Eh! No! No! Inizio! Pericoloso criminale dalle strade, Miss Fry.